Buon salvone appassionati di football manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su Twitch e oggi vi presento la mia ultima creazione tattica, ovvero il 4-3-1-2 di Sarri, quella che era perlomeno l'idea principale che lui voleva portare alla Juventus, poi sappiamo che ha utilizzato anche altri moduli, si è adattato anche alla condizione atletica dei suoi calciatori, anche agli interpreti diversi da quelli che magari si aspettava di trovare alla Juventus, ma partiamo con questa nuova tattica, vediamo questo 4-3-1-2. Per testare questo modulo mi sono servito dell'Atalanta, ma siccome questo è un team che gioca in maniera completamente diversa con Gasperini, ho dovuto fare qualche acquisto, anche se ho comprato soprattutto per le riserve, perché i titolari sono riuscito comunque a utilizzarli lo stesso, ho comprato Sangare, Adrian Gonzalez, Trosteconk e Benassi, per il resto appunto mi sono bastati altri giocatori che ci stavano già. Andiamo subito a toglierci il dubbio sull'onestà di questa vittoria della Serie A andando sullo stato partita. In questa schermata potete vedere che è stato salvato il gioco solamente 9 volte, di cui la prima chiaramente è quello di inizio carriera ed è obbligatorio, così come l'ultimo è quello di fine carriera e anche quello chiaramente è obbligatorio, quindi nell'arco di queste 6 ore e 30 minuti e passa ho salvato solamente 7 volte. Non ho utilizzato l'editor, come potete notare qui c'è scritto no, ma siccome questo può non bastare, vi lascio anche il save della stagione, così potete valutare che non ci sono stati artifici di alcun tipo, perché come al solito qualcuno deve sempre dire che io vinco in maniera non corretta. Comunque la stagione è andata benissimo, abbiamo vinto la Serie A con 82 punti, 3 in più rispetto al Milan che è arrivato secondo. Milan che ha avuto una differenza reti migliore della nostra, ma soprattutto ha avuto anche una difesa migliore della nostra. Noi però abbiamo avuto l'attacco migliore di tutta la Serie A, ma è stata una stagione gargantuesca non solo per la Serie A. Andiamo a vedere perché. Come sapete l'Atalanta non è impegnata solamente nella Serie A, ma anche nella Coppa dei Campioni. Purtroppo devo dire che qui ho commesso qualche passo falso, perché a parte la doppia vittoria con l'Ajax, purtroppo sono andato a perdere una partita con il Kribe Brugge e a pareggiarne un'altra. Ed è per questo che sono finito con 7 punti e sono dovuto finire nella seconda competizione europea più importante, ovvero la Coppa UEFA lasciando subito la Coppa dei Campioni, a differenza di quello che poi ha combinato realmente il Gasperini. È anche vero che però mi sono rifatto alla grande, perché alla fine ho vinto la Europa League, battendo 2-1, niente poco di meno, che il Magistria United. Quindi è comunque stata una grandissima stagione. Guardiamo qualche altra statistica e poi passiamo alla tattica. Avevamo detto che ci stava un giocatore molto avanzato sulla tre quarti e poi due punte, ed è per questo che questi tre uomini sono stati quelli che hanno segnato di più. Il migliore di tutti è stato Muriel, poi Zapata e poi Gomez, ovvero il trequartista. Quello che però stupisce di più è il numero di assist che è riuscito a sfornare il giocatore sulla tre quarti, ovvero ben 25 di Alejandro Gomez, seguito però a ruota da 17 assist di Zapata, che era l'altra punta a sostegno di quella più avanzata, che era Muriel. Ma bando alle ciagge, vediamo la tattica. Il modulo definitivo è questo qui, 4-3-1-2 con un centravanti, un attaccante che pressa e un regista avanzato. Qui ci sarebbe dovuto essere più che altro un rifinitore, visto che Dybala va appunto a svolgere questo ruolo nella Juventus, però purtroppo sappiamo che alcuni ruoli su questo FM non funzionano bene, quindi lo so, anche voi mi fate qualche commento, alle volte mi dite Siluculus, ma se volevi proprio fare quel modulo non avresti dovuto mettere questo e questo come ruoli? Purtroppo avete ragione, ma dobbiamo anche considerare che questo è un gioco e ci sono cose che funzionano meglio di altre ruoli e istruzioni, per cui qui ci sta un regista avanzato in attacco. Dietro ho messo la mezzala in supporto che, bene o male, dei tre centrocampisti che giocano nella Juventus è quello che si muove di più e poi ci sta un regista retratto che un po' fa le veci del pianici di turno e poi abbiamo un carrilero che, se vogliamo, è un po' quello che fa Matuidi nella Juventus, ovvero un giocatore che dà quantità più che qualità al centrocampo della vecchia signora. In difesa abbiamo due difensori centrali, di cui uno che imposta, e poi due terzini futificanti con compiti automatici, il che vuol dire che, insomma, nel corso della partita, quando voi andrete a cambiare la mentalità, automaticamente cambierà anche l'atteggiamento dei due terzini futificanti. Andiamo a vedere le istruzioni della squadra. La mentalità è offensiva, mentre in fase di possesso abbiamo un'ampiese attacco abbastanza larga. Modalità di gioco? Giocare la palla negli spazi. Che vuol dire? Che noi buttiamo la palla nelle zone di campo in cui magari i nostri compagni ancora non ci sono, ma in cui arriveranno in un secondo momento, perché questo è chiaramente un modulo dove i giocatori si devono muovere tanto e è per questo che ci sono le imbucate. Attenzione! Quando mettete le imbucate o quando mettete le sovrapposizioni, il ritmo di gioco non può essere troppo alto, altrimenti queste imbucate e queste sovrapposizioni non si possono concretizzare. Dopodiché partire palla a terra dalla difesa. Beh, abbiamo un difensore che imposta, abbiamo due tessili frutificanti che si muovono tanto e quindi ha senso questa impostazione. Stile di passaggi poco più che diretti, che vuol dire che noi facciamo girare velocemente la palla. Chiaramente questa è proprio una caratteristica tipica del gioco di Sarri. Perda di tempo mai, perché questa, come sappiamo, è un'istruzione che va modificata magari nell'atto finale di una partita, spostando questa barra invece sulla destra, se vogliamo magari mantenere il risultato e non vogliamo che l'avversario possa in qualche modo sorprenderci all'ultimo, ma di base tenetela così. Sulla tre quarti cross misti, voi lo sapete, io adoro i cross basti, però in questo caso abbiamo delle punte forti fisicamente, quindi la palla non ha senso che vada buttata in profondità, in velocità, ma bisogna sfruttare soprattutto l'atletismo dei nostri attaccati, ma poi ne parleremo quando visualizzeremo chiaramente i singoli ruoli. Portare il pallone in aria. Abbiamo tre uomini lì davanti che sanno giocare il pallone palla a terra, sanno fraseggiare tra di loro, quindi ha senso questa istruzione, dopodiché qui non ho impostato nulla di specifico. In fase di transizione abbiamo sempre le solite istruzioni, purtroppo lo sappiamo, questo FM è un po' limitato da questo punto di vista, quindi pressing a tutto campo, contropiede, passala chiaramente al difensore centrale e caccia la corta. In fase di non possesso abbiamo una linea di pressing più alta, perché abbiamo due attaccanti più un giocatore sulla tre quarti, quindi ci possiamo permettere di andare a prestare alti, ed è per questo che andiamo anche di imbedire passaggi corti del portiere avversario verso la sua difesa, però siccome la linea di difesa è solo standard, non possiamo utilizzare il fuorigioco, per il resto, ampiezza di difesa standard e marcare più stretti. E passiamo alle istruzioni sui singoli calciatori, partendo dal portiere, dall'estremo difensore, ho scelto un portiere libero con compito di supporto e non ho aggiunto alcuna impostazione rispetto a quella che mi dà di base già il gioco quando scelgo questo ruolo. Stessa cosa ho fatto col difensore centrale in difesa, non ho aggiunto nient'altro, ho semplicemente scelto il difensore centrale in difesa. Perché non ho messo la marcatura stretta? Perché mi sto rendendo conto che dopo la patch di febbraio, se andate a mettere la marcatura stretta, che succede? Che i giocatori si spostano dal loro ruolo, vanno a cercare di marcare l'attaccante e lasciano dei buchi. Anche il difensore centrale che imposta l'ho lasciato di base, come l'ho imposta il gioco, quindi non ho aggiunto nient'altro, neanche qui ho ad esempio messo la marcatura stretta. Per quanto riguarda i due tessini flutificanti, sono uguali, quindi vediamo semplicemente quello di sinistra. Qui ho potuto personalizzare un po' di più. Intesa di pressing standard, ho messo il vai avanti appena possibile, quando il possesso ce l'ha la squadra, mentre si va ad allargare il giocatore quando il possesso ce l'ha proprio lui. Lo stile dei passaggi è standard, crossa più spesso e corri più rischi. Per quanto riguarda il regista retrato in difesa, l'unica cosa che ho fatto è stato aggiungere la marcatura stretta. Per il resto non ho toccato nient'altro rispetto alle impostazioni di base. Passiamo alla mezzala, si tratta di un calciatore che chiaramente deve muoversi tanto, deve inserirsi, per cui intensità di pressing standard, marcatura stretta, centro campo, vai avanti appena possibile, stai più largo. Questi sono appunto di base, e poi di base ci sta già muoversi negli spazi, libertà di movimento. Ho aggiunto il corri più rischi, lo stile dei passaggi è standard. Per quanto riguarda il carrilero, ho aggiunto semplicemente la marcatura stretta e il corri più rischi. Per il resto, le altre impostazioni sono di base. Chiaramente deve stare più largo il carrilero, perché sulla fascia ci sta semplicemente un terzino, quindi gli serve un po' più di supporto, mancando un cedrocampista laterale. Passiamo al regista avanzato, qui ho aggiunto semplicemente il muoversi negli spazi, l'intensità di pressing lo lascia da standard, e lo stile dei passaggi lo lascia da standard. Come potete notare, qua c'è già di base il dribble di più, il tira di meno, e il corri più rischi. Attaccante che pressa con compiti di attacco. In questo caso, c'è l'istruzione aggiuntiva, di vai avanti appena possibile, in maniera tale che vada ad allungare la nostra squadra, c'è la libertà di movimento, però è importante che abbia delle buoni documentali. Quest'istruzione permette al giocatore di andare a muoversi magari anche dove non dovrebbe, se trova uno spiraio in cui inserirsi. Chiaramente se non è forte mentalmente, finisce che semplicemente che si muoverà male, quindi è importante che scegliate un attaccante con buone doti mentali. Siete passaggi standard, dribble di più e corri più rischi. Queste sono due impostazioni che andrò a utilizzare anche sull'altro attaccante. Perché ho scelto questo? Perché voglio una squadra estremamente tecnica, una squadra che, se ha la possibilità di servire un compagno che è messo meglio nell'area di rigore, appunto, lo vada a servire. Perché? Perché in fase di impossesso, vi ricordo che abbiamo messo il portare il pallone in aria, però è inutile portare il pallone in aria se poi vai semplicemente a tirare e non servi magari un compagno che sta messo meglio. Per questo, il centravanti in posizione di attacco, anche lui ha il corri più rischi e il dribble di più. Dopodiché, lo stile dei passaggi è chiaramente standard, anche lui va avanti appena possibile per allungare la squadra, però lui non ha la libertà di movimento, perché comunque, di base, lui deve essere il finalizzatore ultimo della squadra. Però, ripeto, siccome ha il dribble di più e il corri più rischi, può andare anche a servire il suo compagno, anche perché non ha il tira di più. Proprio perché, ripeto, voglio che questi cacciatori che stanno davanti vadano a servire sicuramente sempre il pallone per qualcuno che è posizionato meglio. Prima di terminare questo video, voglio darvi qualche statistica più importante, almeno per i tre uomini lì davanti. Non voglio ripetere ruolo per ruolo quali sono le statistiche più importanti, perché l'ho già fatto con altre tattiche e mi ripeterei, però, quello che voglio farvi capire è che il giocatore che sta dietro le due punte deve essere estremamente tecnico, quindi visione di gioco, tecnica, passaggi, controllo palla e fantasia, nonché agilità e accelerazione, devono essere il più possibili da 14 in su. Il giocatore, invece, messo come attaccante che pressa, deve essere un po' più fisico rispetto al centro avanti, perché lui dovrà fare anche la sponda appunto con la sua struttura, quindi dovrà essere soprattutto abile nel colpo di testa, dovrà essere forte, accelerazione e velocità, mi raccomando, mai sotto il 13, dovrà avere dei buoni movimenti senza palla e chiaramente buona finalizzazione, perché è un giocatore che deve andare anche al tiro, però è importante anche il dribbling, il dribbling non deve essere altissimo, perché comunque il giocatore che deve saper dribblare meglio è sicuramente il regista avanzato e il centro avanti, però lui deve essere sicuramente anche abile nel saltare l'uomo, qualora si presenti l'occasione di saltarlo. Il centro avanti è un classico centro avanti, quindi che attacca alla profondità, è fondamentale l'accelerazione ancora più della velocità, deve essere chiaramente molto bravo nel senza palla, qui mai sotto il 14, mi raccomando, deve essere abbastanza tecnico, basta già il 14, finalizzazione e dribbling sono importanti alla pari, quindi qua almeno 14 in ambe due le situazioni, il controllo palla va chiaramente in coppia con il dribbling e la tecnica, quindi anche qui mai sotto il 14. Per quanto riguarda il centrocampo, ricordatevi che il Carilero è un centrocampista soprattutto di quantità, quindi è molto importante il contrasto, la resistenza, la marcatura, però è un giocatore che deve anche muoversi, quindi deve avere un minimo di senza palla a 12, è un calciatore che a differenza del CCQ non si muove verticalmente, ma si muove un po' più lateralmente, ma ripeto, è un centrocampista sicuramente più di quantità che di qualità. La mezzale invece deve saper fare entrambe le fasi, quindi è importante che oltre ad avere un minimo in contrasti e marcatura, ma basta già un 11 per entrambe, deve soprattutto avere buon movimento senza palla, perché è un giocatore appunto che si muove tanto, un minimo anche in accelerazione e velocità, queste tre caratteristiche mai sotto il 12, dopodiché deve avere anche un minimo di dribbling e di finalizzazione anche qui mai sotto l'11-12. Per quanto riguarda il registratale in difesa, si tratta di un classico palleggiatore, quindi al solito visione di gioco, tecnica, passaggi, controllo palla, se è possibile anche un minimo di fantasia, non tralasciate la marcatura e i contrasti mai sotto l'11, mi raccomando, perché è l'ultimo baluardo, se viene saltato lui insomma, rimane solamente i due difensori centrali. Per quanto riguarda il difensore centrale, è un classico calciatore che deve difendere, quindi deve avere colpi di testa, contrasti, marcatura, intuito e posizione mai sotto il 14, mi raccomando, freddezze e decisioni mai sotto il 12, l'aggressività è un valore range, non deve mai essere sotto il 12, non deve mai andare oltre il 18, altrimenti se va oltre, insomma, si prende più sanzioni disciplinari. La forza è molto importante, così come l'accelerazione e la velocità, mi raccomando, questi tre mai sotto il 12, la massima elevazione è relativa, perché se il giocatore è già alto 2 metri, non è importante che abbia massima elevazione 20, però è chiaro che se è un tappo, se è alto 1,80 o anche meno, diventa problematico se non ha una grande massima elevazione. Per quanto riguarda il difensore centrale che imposta, si distingue rispetto al difensore centrale, perché oltre ad avere tutte le statistiche che deve avere il difensore centrale, deve anche avere buona visione, tecnica, passaggi e controllo palla. Queste statistiche mai sotto il 12. per quanto riguarda invece il terzino fluidificante, mi raccomando, siamo di fronte a un giocatore che deve saper sia difendere sia attaccare, quindi accelerazione, agilità, velocità e resistenza mai sotto il 14, idem con patate se possibile anche per il senza palla, ma l'importante è che sia comunque quest'ultimo almeno sopra il 12, tecnica, marcatura, passaggi, dribbling, cross, controllo palla e contrasti se possibile mai sotto l'11 sbarra 12. questo è il link da cui scaricare il modulo, non vi preoccupate, ve lo lascio in descrizione, non dovete far altro che andare su scarica e attendere che chiaramente il processo termini, non è importante avere un account mega, come avete visto, non ho fatto il login, andrete chiaramente su salva file se avete un browser mozilla, dopodiché vi dirigite nella cartella dove normalmente scaricate il materiale da internet che per me è la cartella download, andiamo dunque su download. una volta scaricato il materiale vi troverete di fronte a questo file sunri 10.6 che è un file fmf quindi non va decompresso va semplicemente copiato e messo nella cartella giusta quindi tasto destro del mouse in corrispondenza di questo file e poi andate su copia dopodiché andate in documenti sport interactive football manager 2020 dopodiché andate in tactics e poi tasto destro del mouse e andate su incola io chiaramente non lo faccio perché avendo creato io questo modulo ce l'ho già in questa cartella il video termina qui fatemi sapere insomma cosa ne pensate di questo modulo scrivetemi nei commenti i vostri risultati qualora appunto decidiate di provarlo non mi resta altro da fare che salutarvi buon salve a tutti al prossimo video di fm20 ciao 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 Grazie a tutti.